È logico che il settore trainante dell'economia ischitana sia il turismo, per quanto agosto faccia sempre storia a sé, sia sempre un mese che si conferma di anno in anno, si può guardare anche al mese di settembre con delle speranze positive? Ma io sono abbastanza fiducioso, intanto diciamo che agosto, anche se non fa testo perché ogni anno è stata sempre la stessa cosa, però diciamo pure che quest'anno, essendo un anno particolare, stiamo cercando di venire fuori da una situazione di emergenza e voglio dire prendiamo tutto quello che ci arriva, tutto per buono perché io ci avrei messo la firma per avere un agosto così. Per quanto riguarda settembre è legato comunque sempre anche alle condizioni meteo, però voglio dire noi ogni anno ci siamo sempre difesi bene a settembre perché c'è una nicchia di turismo a livello nazionale quest'anno perché di turismo internazionale non penso ne possiamo ancora parlare in quanto i voli sono ancora limitati, voglio dire le frontiere non sono tutte quante aperte. Comunque siamo abbastanza speranzosi che a settembre ci possa regalare ancora un po' di lavoro, visto e considerato che poi tra l'altro quest'anno la stagione è iniziata con notevole ritardo perché noi per quanto riguarda lo stabilimento balneare qui abbiamo iniziato già intorno al 15 di giugno, quindi perdendo già un mese e mezzo di lavoro. Con i protocolli invece regati al Covid sulla spiaggia come va? Devo essere onesto, va abbastanza bene, noi abbiamo rispettato quello che hanno i protocolli, anzi siamo andati al di là di quello che dovevano essere i famosi 10 metri quadrati per ombrellone perché noi siamo intorno ai 15 metri, facciamo molta attenzione affinché sotto un ombrellone non si superi il numero di 5 persone appartenenti più o meno allo stesso nucleo familiare, c'è un controllo continuo e devo essere onesto, devo ringraziare a Talupo anche le forze dell'ordine che non mi fanno mancare il loro supporto, sia la polizia, i carabinieri, la guardia costituzione, i vigili urbani che periodicamente vengono sul nostro stabilimento invitati anche da me come supporto, però in linea di massima la gente ha capito, noi quotidianamente e periodicamente facciamo anche gli annunci e preghiamo vivamente alle persone di rispettare questo numero, di creare quantomeno sia possibile gli assembramenti. È vero che comunque la gente sta in vacanza, stiamo in un luogo di svago, è uno stabilimento banale, una spiaggia, quindi ci vuole anche un po' di buonsenso anche da parte di noi gestori, sempre nei limiti del possibile, però tutto sommato non ci possiamo lamentare.